In A12 a Pisa Nord è chiuso per lavori l'allacciamento tra l'A11 con proveniente In Fipilì in direzione Firenze due chilometri di coda tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna Rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci ed è ancora chiusa l'entrata di La Strassigna In direzione Mare rallentamenti tra Scandicci e La Strassigna e tra Samminato e Santa Croce sull'Arno Coda in uscita a La Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno E rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco A Firenze per una fuga di gas chiusi gli accessi a Piazza della Libertà da Viale Matteotti, Via del Ponte Rosso e Via Lorenzo il Magnifico Su raccordo sia in Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta E tra Monteriggione e Badesse in entrambe le direzioni Ed è tutto, buon viaggio!